salve ho fatto un video in inglese su quello che è successo in questo canale poi quello che è successo nel mondo e va bene sapete come la penso allora in questo anno io ho dimostrato nei fatti che non ho bisogno e non dovreste avere neanche voi bisogno dell'approvazione di quattro amichetti che si conoscono fra loro non avete bisogno di andare a spammare i gruppi spammare cioè mettere i vostri video in qualsiasi gruppo di ukulele ukulele estonia ukulele kazakhistan ukulele venezuela ukulele south dakota no non ce n'è bisogno perché perché sono una dimostrazione concreta pratica nei fatti che avere un percorso un'idea di quello che tu vuoi fare ok e farlo vedere anche nei video ma io almeno personalmente non considero questo il fine del mio cantare e suonare il mio fine del cantare e suonare è nonostante tutto quello che dicono adesso e cosa vogliono fare della nostra vita renderci delle monadi chiusi in casa terrorizzate della realtà esterna io non credo a tutta questa storia io credo nella lo spirito umano e nella nostra volontà esigenza di rapportarci gli uni con gli altri nella vita reale come siamo stati come ci siamo evoluti e i tempi di questa tecnologia galoppante non sono i tempi della nostra biologia del nostro cervello quindi si crea una discrepanza che porta che cosa a una eterna eterna insoddisfazione della propria vita perché la propria vita non è fatta secondo i nostri naturali istinti e secondo quello che è la nostra umanità la stessa umanità che dà un senso alla nostra vita se non saremo un ammasso di carne che parla lavora caga mangia piscia si accoppia e muore questo vogliono di noi ebbene io ho una mentalità diversa è una mentalità diversa anche nell'approccio dell'oculele qual è l'approccio lo stesso è una la musica è una delle espressioni di quello che siamo noi qualcuna può essere un po più cerebrale qualcuna un po più di pancia di ventre ma senza la nostra umanità e senza la nostra umanità intelligenza la musica è semplicemente suono quello che percepisce un anima che sente la stessa cosa che facciamo che sentiamo noi ma non apprezza come noi per esempio possiamo sentire un bellissimo discorso in in lingua a zera e non capiamo un cazzo ecco noi però io almeno credo che l'uculele non sia un semplice in quattro corde con delle tablature o dei straming partner come dicono che ti vengono forniti forme degli accordi e questo è basta no c'è un discorso di imparare anche a più accordi e più versioni dello stesso accordo imparare a suonare non solo vicino alla paletta dello strumento ma a lungo tutto il manico dello strumento cioè metterci anche una certa originalità e creatività anche sbagliando e cantare mettendoci noi stessi se noi leviamo l'originalità cantare mettendoci noi stessi e vogliamo non correre rischi facciamo una cosa che poi non ha senso in questa epoca della riproducibilità della musica perché io dovrei sentire un carillon umano perché parliamoci chiaro una persona che sono al piano facendo solo le note giuste è un tipografo chiaro senza l'aspetto umano non ha senso che poi l'aspetto umano lo mettono in tante altre cose che dove è superfluo tipo non è superfluo da un punto di vista oggettivo ma per loro non è superfluo tutto l'aspetto dell'umanità lo sono soltanto a loro fini nelle pubblicità che fanno leva sui nostri sentimenti più di convivialità che non c'è ormai più nel terrorizzarci con tante cose però dove dovrebbe essere il naturale sfogo il naturale esito di quello che siamo noi come persone che è l'arte nelle varie dignazioni musica recitazione pittura scultura architettura quello che vi pare quello che è espressione nell'animo umano attraverso anche mezzi tecnici e creatività lì no lì non va bene per venderci le cose per terrorizzarci e farci fare quello che dicono loro allora sì io uso la mia razionalità e la mia intelligenza all'approccio alla realtà non mi chiamate negazionismo negazionista io non nego niente io non nego che esiste la varicella ma non basso tutta la mia vita sul terrore della varicella io non nego che esistano i meteoriti ma non basso tutta la mia vita uscendo per strada con un elmo con un casco per paura che mi cascano i meteoriti in testa ok credo che usando la razionalità poi voglio dire io credo sempre che la vita sia un valore fondamentale e questo valore sono morte tantissime persone per darcelo noi pur pur di non correre un rischio eppure seppur minimo di morire siamo disposti a cederlo alle persone la nostra libertà che ne fanno quello che gli pare per i loro interessi a tutto discapito dei nostri questa mentalità che io che fosse dovuta anche al fatto che io appartengo un'altra generazione che ha fatto un liceo classico che all'epoca non mi fa pensavo così invece da una visione critica della realtà aver studiato seppur a malincuore storia e filosofia vi fa capire tante cose le nuove generazioni non sanno una mazza la scuola si è da quello che ho capito la mia impressione imbarbarita impoverita se nozioni test tutto si è schematizzato disumanizzato un'intera generazione di cantanti suonatori di fronte a un momento in cui potrebbero far levare la propria voce perché sta andando tutto a rotoli sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista della salute ma non per i motivi che dicono roppettanti altri motivi perché quando tu distruggi la sanità e dedichi tutta la sanità a una sola malattia gli altri come si curano è diventato tutto più difficile tutto è collegato a un stato di assurda paranoia la stessa paranoia che tanto tempo fa era contro gli ebrei per la razza pura la stessa cosa le croci di davide qui la croce invece di chi si è vaccinato la demonizzazione di chi la porta pensa in modo diverso allora sto fondendo due discorsi diversi ma è la stesso approccio che ho alla realtà che mi porta a considerare nel mio piccolo di persona che canta e suona di vedere che una persona come me che avrebbe dovuto dare una scossone al mondo dell'ugulele far capire alle persone che il mondo dell'ugulele non è un mondo del commercio non è un mondo del di un negozio il negozio per quanto sia è commercio non c'è niente di male ma è un negozio le corte sono commercio è un prodotto è chiaro loro fanno la loro pubblicità ma voi dovete essere libri questo sempre detto non andate in gruppi dove vi dicono sempre solo la solide che cosa che l'ugulele va comprato in quel negozio e vanno usate quelle corde e c'è il feste l'ugulele sponsorizzato da quelle corde che hanno connessione con quel negozio che è un connessione con una succursale a roma ecco quando ho detto queste cose qui è detto voi fate gli interessi vostri se volete fare un gruppo collegato a quelle cose lì sia un gruppo chiaro lo chiami ukulele che ne so mercatino di ukulele aquila gruppo non ci sarebbe niente di male ok ma quando io vedo sinceramente il 99 per cento dei casi quando uno fa una domanda di corde sulle corde dell'ugulele nove persone su dieci dicono aquila per sempre per sempre è chiaro che c'è un persiano comune che è stato diffuso in modo pervasivo e attraverso un marketing eccezionale dal loro punto di vista non dal mio punto di vista di tante persone che vorrebbero ragionare con la propria testa e parlare di cose che hanno sperimentato su vari ukulele quando si parla di ukulele da dieci euro c'è qualcosa che non va quando le sole corde anche aquila costerebbero 7 8 9 non so quanto costano adesso non le prendo più gli prendo altre corde però questo io volevo dire ovviamente ovviamente non potendo discutere con me su queste cose qui perché cosa c'è da discutere è chiaro che evidentemente il mio approccio è un approccio di libero poi mi sono venuti a dire che io ho la verità in tasca certo come tutte quelle che sono a favore dell'economia hanno una verità in tasca qual è che la pluralità questa è l'unica cosa e la libertà sia un valore per voi la pluralità e la libertà non è un favore quando io ho sentito persone dire levate il microfono alla bocca di me che non lo possono fare ma solo il fatto che l'hanno detto e gli altri sono stati d'accordo nessuno ha detto niente indica molto di quella mentalità cioè la neutralizzazione di chi la pensa in modo diverso da te prima ti ignorano poi ti pigliano per il culo poi ti attaccano questo è il processo io sono passato attraverso tutte queste tre fasi ovviamente c'è gente che non ha le palle non ha la conoscenza e non è sicura di stè che si fa zittire io non mi sono mai non sono mai riusciti a zittirmi perché sono sempre passato per un affinamento anche nelle mie doti dialettiche in quello che dico tant'è vero che nessuno di loro ha mai accettato un confronto con me nessuno ragazzi ma se avessi detto delle puttanate assurde se quello che io sto dicendo adesso e che ho sempre professato fosse assurdo e fosse facilmente smontabile ma perché e ma non vogliono darti pubblicità la pubblicità me l'hanno data parlando di me anche in modo negativo non hanno considerato però che non tutti credono che a qualsiasi cosa dicono di me possono aver aperto il mio canale e hanno trovato una realtà diversa tant'è vero che io ho nella media più iscritti di qualsiasi quasi tutti di loro quasi tutti di loro attualmente il numero delle video delle visualizzazioni anche dei video dove raramente ma ancora suono l'okulele è sta aumentando è chiaro che questo qualcuno può dar fastidio perché quando dicevo le cose io tempo fa e non ero nessuno a cantare a suonare poi erano facilmente pigliarmi per il culo adesso è un po più difficile tanto è vero tanto è vero che questi video non vengono più messi sul mercatino dell'okulele sì mercatino dell'okulele ciao sull'okulele club italia mercatino dell'okulele un'altra c'entra però non è un non vengono messi più sul gruppo okulele club italia perché perché qualcuno forse ha capito forse qualcuno lo metterà ma la maggior parte hanno capito che non è nel loro interesse dare voce a me perché ricordate quando qualcuno vi leva il microfono o vi ignora vuol dire che ha paura di voi perché io non ho io il microfono a a persone tipo bucci uculiano io lo darei li farei parlare quanto gli pare però poi parlerei io e gli risponderei e questo allora forse forse infatti non hanno accettato nessun invito a fare un video però non che lo tagliano e mettono dove gli pare dove c'è la mia visione delle cose e la loro è chiaro? ovviamente vedrete nei loro canali video visti da quattro gatti con un sacco di mi piace cosa vuol dire? è che che fra di loro se mettono mi piace mi piace e credono no ragazzi il numero di mi piace a meno che non stai facendo una cosa bellissima dovrebbe avere molte visioni se è veramente bella se il numero di mi piace è alto per quello il numero delle visualizzazioni c'è qualcosa che non va è raro che un video visto da 70-80 persone possa avere 10, 12 o 20 mi piace è chiaramente un modo di ogni persona ci avrà degli amici lo manderà su whatsapp i loro amici e i loro amici che fanno mettono mi piace però sono sempre quattro gatti quando vedete i miei video e vedete pure i non mi piace è chiaro che molti di questi sono dovuti a quelli che a cui non piace che io dica queste cose però però si vede che il numero degli abbonati il numero delle visioni il numero di mi piace il numero dei commenti è normale loro sistematicamente quando io vedo un video di sabat e ho messo un commento me l'ha levato subito dove dicevo effettivamente è un video di un minuto e 58 dove non fa niente di speciale e l'interpretazione è nulla perché il suono delle corde non ha nessuna non c'è una vita non ha vita non ha commentato difendendo perché se tu sei convinto io poi non ho detto fa schifo ho detto che l'interpretazione non c'era e praticamente che l'unica cosa positiva è che non c'era l'espressione stasiata sua perché si diva fino a qui a parte che dovete sempre metterci la faccia io rarissimamente ho un qualche video in cui perché era molto vicino alla mia bocca ma di solito nessuno vuol vedere e poi si deve vedere tutto lo strumento due cose le cose mie ho imparato la gente vuol vedere quando tu suoni tu che suoni chiaro? cioè tutto lo strumento è la bocca chiaro? già parti male il pezzo è molto corto e inconsistente ovviamente non mi ha risposto quindi ricordatevi che tutti i commenti positivi che vedete io certo anche io qualche volta levo commenti negativi ma quando non sono circostanziati allora però anche perché poi io distinguo i commenti che vengono una persona che è un canale con un nome e cognome anche il mio l'ho cambiato però ci sono io quindi sono facilmente identificabile un canale identificabile o per un nome e cognome che poi il nome e cognome potrebbero essere anche di fantasia io potrei mettere un cognome e un nome a cavolo italiani e non corrisponde poi a nessuno però un canale identificabile con una persona che mette dei video la maggior parte di questi commenti vengono da persone non identificabili ecco se voglio rispondo però ricordatevi questo tanti canali non hanno commenti negativi perché vengono semplicemente levati ragazzi e un'altra cosa io non metto lascio rarissimamente adesso andrò a vedere commenti eccessivamente positivi uno perché mi sembra una presa per il culo secondo non ci credono neanche io e non sia giusto credo che non sia giusto chiamarmi grande come non sia giusto chiamarmi merda perché non sono né una merda né grande è chiaro? non sono nessuno delle due cose sono una persona molto con i piedi per terra ok? certo ho le palle di dire che canto meglio di alcune persone che non sanno cantare vistosamente ma non è un grande tessere e lodi di me stesso è più che altro chiaro? tutti li credi essere beh cantare meglio di te che non sai cantare non fa di me Frank Sinatra chiaro? quindi se io dico di essere più bravo di una certa persona nella mia ottica vuol dire che la persona è proprio scarsa dico come per dire ammazza io che non so nessuno sono pure più bravo di te che allora veramente stai messo male questo è il mio discorso quindi se qualche persona ha capito come stanno le cose e che bisogna allontanarsi dal chiacchiericcio nullo dei gruppi di ukulele perché non c'è un consiglio valido e se c'è si perde in un mare di consigli sbagliati c'è stata una persona ha fatto pure un video in cui che dice effettivamente le cose vere sulle corde piccolo particolare che le corde è un giudizio personale che le corde vanno sperimentate sui vari ukuleli a secondo del proprio gusto e quindi più corde si sperimentano e più si trova quella giusta ma è giusta per quello ukulele e per quello che ci devi fare la mentalità invece ormai è così tu mi devi dire qual è buono per me cioè tu vuoi un consiglio dall'alto in basso che prende il tuo cervello lo mette di lato e ci sussisca il suo cioè quindi vuol dire che tu del tuo cervello non hai nessuna stima è ovvio è ovvio che l'opinione degli altri degli altri che dimostrano di avere di avere una certa credibilità e qui il problema chi ha una credibilità secondo me senza falsa modestia io ho dimostrato in questi anni di avere una credibilità per quanto riguarda affermazioni che faccio sulle corde sugli strumenti e altre cose tipo il pretro la tragolla non c'è stato un video o una cosa nessuno o un commento che dice tu hai detto una cazzata e l'ha dimostrato quindi nel mio piccolo e non me ne faccio una grandissima cosa è triste è triste che ci siano io sia magari c'è qualcuno o qualcun altro ma che siamo in pochi e poco a dire e dare dei commenti giustificati e che abbiano senso vedete persone dire chiaramente che l'uculare baritano le corde in metallo e quando l'ho fatto notare questa persona ha cominciato a a a a dimmi le peggio cose il problema ero io che non ho nei modi buoni non è il problema che ci sono le persone che se ne escono con informazioni palesemente sbagliate palesemente sbagliate il sol basso su un uculele basta prendere il re la corda del re di una chitarra classica è chiaro che essendo più corto lo strumento diventa soul ma si perdono io l'ho letto di James Hill il libro ma ragiona tu hai letto quello che ti pare se James Hill avesse scritto nel suo libro che gli uculele da soli volano per un errore di stampa tu ci avessi creduto solo perché evidentemente c'è un errore di stampa un soldo e una chitarra non può essere il soldo in uculele hanno dei manici completamente diversi anche calcolando quello uculele le corde più spesse ma non può essere questa è la mentalità cioè persone che prendono informazioni palesemente sbagliate per un errore di stampa una cattiva lettura sua magari un errore di traduzione quando io gli faccio notare logicamente che non è possibile ma perché non solo ma che io ho sempre montato anche mute di corde per chitarra e ci ho fatto l'ho montato su un uculele tenore hard tension o ex hard tension quindi è chiaro che mi la mi la leo re sozi mi su un uculele invece su un uculele abbrito non sono costretti ad usare la seconda terza la quarta e la quinta anche se c'è un semitono di discrepanza spostando una corda queste sono cose che dovrebbero essere chiare non sono chiare dovrebbe essere chiaro che l'uculule banito intanto il re sozi mi è alla stessa tensione è la stessa rapporto fra l'intonazione di abason e grandezza dello strumento per cui è semplicemente un uculele più basso ma che assomiglia come qualità di timbro non tenore se io prendo un uculele baritono e lo intorno solo soldomi la si sono in realtà sono esattamente le stelle note dell'uculele soprano ma essendo lo strumento più lungo e più grande avrò delle corde più fine corde più fine che sono tipiche della chitarra infatti la differenza fra un uculele baritono e una chitarra pur essendo intonati uguali che è l'uvalitono è molto più corto e piccolo quindi per avere quell'intonazione bassa della chitarra deve avere corde più spesse anche l'uculele soprano in fondo ha corde spesse perché ma perché se fosse una chitarra più piccola sarebbe semplicemente molto più acuto tutti questi discorsi non sono stati assolutamente presi in considerazione e qualche volta qualcuno l'ha fatto mi è capitato di vederlo su quella crepitale e qualcuno l'ha attaccato perché diceva le cose che dicevo io quindi vi faccio capire la mentalità di certe persone cioè se io dico una cosa esatta siccome l'ho detta io lui non la può dire perché che sono io perché perché mi vengono a dire che io sono mitico dal mondo dell'uculele non so se hanno usato la parola mitico ma per me l'ho detto più di una volta io veci dico delle persone che per me sono mitiche Giuliano Brunner Capozzi Bucci Polletto e altri per me sono quelli mitici scusate per me quelli sono mitici ecco io in fondo sono una delle persone meno forse qualche video esagero con voci mani ma in fondo sono una delle persone meno cazzarone del mondo dell'uculele ma proprio meno di tutti il massimo che ho fatto è un video di Natale con il cappello di Papo a parte i cappelli dei cowboy che non sono da cazzare perché sto facendo country ok questo è ovviamente ovviamente tutti i nodi verranno al pettine e verrà un giorno in cui qualcuno andrà a chiedere ma come mai questa persona come mai questa persona è stata presa in giro come mai questa persona quando canterò se non avrò meglio e io dirò no io non ci voglio stare in quel gruppo per questo e questo e quel motivo ovviamente ci sono stati dei tentativi di riconvolgermi in cose loro ma io non voglio essere coinvolto prima qualcuno mi rende conto perché sono state dette delle cose su di me in quel gruppo tutti se ne lavano le mani nei miei gruppi non ci stanno insulti non ci stanno tante persone che si mettono contro di me ok nei miei gruppi ok però evidentemente i miei gruppi sono gestiti da me e quindi io ho sempre come si dice il polso di quello che succede non è una serie di video come l'ho detto più una volta senza capo né coda va bene allora il buono anno io do avendo detto questo video ammesso che ci sia ancora qualcuno che mi segua c'è un gruppo si chiama oculele non buffa l'Italia io tutti quelli che staranno nel mio gruppo è solo e non quell'altro gruppo cioè se uno decide di stare nel mio gruppo può stare in tutti i gruppi meno che uno decidete però io darò dei consigli e non ci saranno dieci persone che vi consiglieranno cose che non hanno senso avendo detto ciò non vi auguro un buon 2021 perché saprò che sarà un anno di lotte peggio del 2020 però dipende da noi dipende solo da noi non è dall'anno o delle nostre auguri dipende da quante persone si sveglieranno e cominceranno a invece di stare su youtube scendere in piazza io ho i video dove dimostro che io in piazza ci sono andato quindi non impede le scatole arrivederci